È il quarto rapporto sul terzo settore che presentiamo ed è un rapporto che ci mosse innanzitutto una presenza di mondo del terzo settore in questa regione che è fatto da oltre 7.000 associazioni regolarmente registrate nei nostri registri. Siamo peraltro in una fase di trasmigrazione per l'attuazione della riforma nazionale sul terzo settore, quindi nel passaggio del RONS. 7.000 quelle regolarmente registrate, ma l'Istat testa molte più associazioni, oltre 28.000 associazioni tra formalizzate e non formalizzate. Un mondo molto variegato all'interno del quale c'è impresa sociale, c'è chiaramente le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di promozione sociale. Uno spaccato che ci dimostra come il mondo del terzo settore in Toscana si occupi di tantissime cose, naturalmente in maniera prevalente di tutto ciò che è legato al mondo socio-sanitario, ma non solo, c'è chi si occupa di cultura, di sport, di occasioni di inclusione sociale. Un mondo veramente che dà uno spaccato di come i cittadini, sia nel mondo del volontariato che complessivamente nel mondo del terzo settore, siano impegnati nel creare occasioni di comunità e di inclusione sociale. Quello del terzo settore è un partner costante nell'azione della regione toscana che vogliamo continuare a portare avanti. Stiamo con loro discutendo insieme a CESVUT, al forum del terzo settore, ad ANCI, di come attuare l'amministrazione condivisa, per la quale ci siamo dotati di una legge nella scorsa legislatura. Il rapporto mostra anche come le associazioni hanno avuto la capacità di reagire alla fase pandemica, riorganizzandosi, riattivando le loro attività, come abbiano anche subito questa fase, perché naturalmente molti strumenti di finanziamento sono venuti meno. Un dato che naturalmente andrà ulteriormente analizzato è che soprattutto nel mondo del volontariato c'è un invecchiamento dei volontari e questo ci deve far riflettere su come lavorare invece con il mondo dei giovani per rendere questo mondo, quello del volontariato, appetibile dal punto di vista del loro essere cittadini attivi nelle nostre comunità. Chiaramente la presentazione del rapporto non è solo un momento formale, è un momento che rappresenta la necessità, la volontà della regione toscana di continuare a lavorare e collaborare con il mondo del terzo settore tutto. Poi la risposta, soprattutto dai territori, non tanto dalle associazioni di conozione sociale, è stata a dir poco disaventata e sconfortata di queste progetti. Ma credo che questa è la situazione emergenziale tale che con la protezione civile abbiamo trovato a costruire un sistema che riuscisse a creare associativi e centri di servizio in italiano con una donabilità. C'è la risposta. Noi ci saremmo consentiti con una battuta, ci saremmo divertiti molto di più. Grazie a tutti, non parli, mi consenta di iniziare una battuta se quelle risorse le sono avanzate. Eh, magari se le riprese franque. No, no, noi continuiamo a stare.